La storia ebraica era una cosa orrenda fin già da allora, perché io in Accademia avevo colleghi che erano ebraici, che volevano diventare ufficiali piloti come noi e li hanno cacciati perché erano ebrei e questo è stata una cosa vergognosa e triste perché vuol dire che il mondo non era più come lo pensavamo noi.